I carabinieri di decollatura nel Catanzarese hanno arrestato un 29enne che, colpevole di rapina aggravata, dovrà scontare la pena della reclusione per un periodo di due anni, tre mesi e nove giorni. I fatti risalgono al gennaio 2021, quando il giovane, insieme ad una complice di San Pietro Apostolo, aveva narcotizzato, versando in una bevanda un'elevata dose di sostanza sedativa, una coppia di anziani oltre 80 anni di conflanti, presso cui prestava servizio come collaboratore domestico, al fine di impossessarsi una ingente somma di denaro contante e di vari generi alimentari che gli anziani avevano all'interno della loro abitazione. Questi ultimi, lasciati riversi sul pavimento in stato di narcosi profonda, erano stati salvati dai sanitari del 119. Pochi giorni dopo l'evento, a seguito di un'indagine, l'autorità giudiziaria Lamentina aveva messo anche alcune misure cautelari a carico degli indagati in attesa della definizione del giudizio. Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro. Grazie a tutti.